L'ossessione è la conseguenza della presa di possesso da parte di uno spirito disincarnato di un corpo dal quale è stato scacciato l'ego che ne è proprietario. Vi sono dei casi di persone vittime di qualche vizio, alcol, sensualità eccetera, che per sottrarsi alle loro responsabilità dichiarano di essere vittime di un'ossessione. Quando un individuo fa una dichiarazione del genere si può essere quasi certi che si tratta di un semplice pretesto. Chi commette un furto non lo grida ai quattroventi e quindi un'entità che si è impossessata del corpo di un individuo non se ne vanta per non correre il rischio di essere esorcizzata ed anche perché si preoccupa ben poco di quello che gli altri possono pensare dell'essere nel corpo del quale è entrata. Tuttavia vi è un mezzo infallibile per riconoscere chi è veramente ossesso ed è l'esame della pupilla. L'occhio è lo specchio dell'anima e solo il vero possessore di quest'organo ha il potere di contrarre o dilatare la pupilla. Dunque esaminando in una stanza buia l'occhio di una persona ritenuta vittima di ossessione, se la pupilla non si dilata essa è effettivamente vittima. Analogo risultato si avrà se si chiede alla persona di fissare un oggetto lontano e poi leggere uno scritto a distanza ravvicinata e di dimensioni ridottissime. La pupilla resterà immobile. Concludiamo col dire che la pupilla di una persona ossessa non è sensibile né alla luce né alla distanza. Esiste però una malattia, la tassia locomotoria, in cui la pupilla è sensibile alla distanza ma non alla luce. Colui che mantiene un atteggiamento spirituale positivo non sarà mai ossesso, poiché fin tanto che affermiamo la nostra personalità allontaniamo da noi gli elementi negativi. Nel corso di sedute spiritiche dove partecipanti sono in condizione negativa esiste per essi un serio pericolo di essere vittime di ossessione. Il mezzo migliore per ovviarne è dunque di conservare costantemente uno stato di spirito positivo. Le persone naturalmente inclini ad essere negative devono sempre evitare di assistere a sedute spiritiche, di fissare cristalli o di adoperare qualsiasi altro metodo per evocare gli spiriti. Coloro che sono partiti per l'aldilà hanno terminato il loro compito su questa terra e non è bene richiamarli a noi. Al momento della morte l'atomo germe situato nel cuore che contiene tutte le esperienze della vita passata sotto l'aspetto di una serie ininterrotta di immagini viene liberato mediante la rottura del cordone argenteo per cui lo spirito abbandona il corpo fisico portando con sé i veicoli più sottili. Allora flutto al di sopra del corpo inanimato per un tempo variabile da qualche ora a tre giorni e mezzo. Questa durata dipende dal vigore del corpo vitale che costituisce il corpo dell'anima di cui si parla nella Bibbia. Durante questo periodo di attesa si effettua la trascrizione del panorama della vita che si svolge in senso inverso dalla morte alla nascita. Queste immagini vengono trasferite dall'ettere riflettore del corpo vitale sul quale sono state incise durante l'esistenza al corpo del desiderio che sopravvive. Durante questo trasferimento la coscienza dell'ego è concentrata sul corpo vitale o almeno dovrebbe esserlo e lo spirito non prova nessuna emozione nell'osservare quelle scene. Le immagini così trascritte sul corpo del desiderio, veicolo dei sentimenti e delle emozioni, costituiscono la base per sofferenze ulteriori che dovranno essere subite nel purgatorio a causa delle cattive azioni e per le gioie che saranno provate nel primo cielo per merito delle buone azioni compiute nella vita appena trascorsa. Recenti investigazioni da parte dell'autore hanno rivelato inoltre un nuovo fatto. Durante i giorni densi di avvenimenti che fanno immediatamente seguito alla morte avviene un altro processo. Nel corpo vitale avviene una separazione simile a quella che si produce al momento dell'iniziazione. La parte superiore di detto veicolo, suscettibile di ricevere l'appellativo di anima, si fonde con i veicoli più sottili superiori e con essi forma, dopo la morte, le basi della coscienza nei mondi invisibili. La parte inferiore che è eliminata ritorna verso il corpo fisico e nella maggior parte dei casi, come viene spiegato nella cosmogonia dei rosa croce, fluttua al di sopra della tomba. La separazione del corpo vitale di cui parliamo non avviene in modo identico in tutte le persone. Dipende dalla vita vissuta e dal comportamento del defunto. Nei casi estremi questa separazione si differenzia molto dalla norma. Questo fatto importante è stato esaminato dalla sede centrale in molti casi di cosiddette ossessioni. Tali investigazioni hanno determinato delle scoperte sorprendenti e di grande portata circa la natura dell'ossessione di cui soffrivano alcune persone che si erano rivolte a noi chiedendo aiuto. Come previsto, l'esame dei casi ha rivelato il prevalere del male. Allora furono fatte delle indagini per scoprire se esistesse un'altra classe di individui presso i quali avveniva una differenziazione che rivelasse al contrario la preponderanza del bene. Con gioia abbiamo avuto conferma delle nostre supposizioni. Dopo aver valutato e paragonato i fatti rilevati diamo qui di seguito le conclusioni alle quali siamo arrivati e che ci sembrano giuste. Tutti gli sforzi del corpo vitale tendono a conservare in buono stato il corpo fisico che le emozioni e i desideri logorano in continuazione. Dal conflitto fra il corpo vitale e il corpo del desiderio nasce la coscienza che abbiamo nel mondo fisico. Tale lotta indurisce i nostri tessuti e li rende più solidi per cui il tenero corpo infantile a poco a poco perde la sua elasticità per arrivare col passare degli anni a diventare solido, quindi a raggrinzirsi fino ad arrivare poi a morire. La moralità o l'immoralità dei desideri e delle nostre emozioni agiscono diversamente sul corpo vitale. Quando l'azione ha per movente la devozione ad un ideale nobile, quando per anni sentimenti elevati hanno avuto libero sfogo e soprattutto quando ci si è regolarmente esercitati tramite la retrospezione serale e la concentrazione del mattino, a placare i desideri infimi e ad eliminare gli appetiti grossolani, l'etere chimico e l'etere vitale diminuiscono gradualmente di volume mentre l'etere luminoso e il riflettore aumentano proporzionalmente. Ne risulta che la salute fisica delle persone che seguono il sentiero della spiritualità non è florida come quella di coloro che soggiacciono agli istinti della loro natura inferiore. Questi ultimi attirano a sé l'etere chimico e quello vitale appagando il corpo di carne a detrimento dei due eteri superiori. Da questo stato di cose derivano, al momento della morte, parecchie importantissime conseguenze. Poiché il ruolo dell'etere chimico consiste nel rafforzare le molecole del corpo fisico durante la vita terrestre, è evidente che se questo etere è rarefatto, il nostro veicolo fisico dopo la morte si disintegra molto rapidamente. Il fatto è difficile da verificare perché è assai raro poter assistere alla morte di un essere così spiritualmente avanzato che possa presentare tali condizioni. Tuttavia è sufficiente riferirsi al racconto biblico che narra come il corpo di Cristo, non sia stato trovato quando i discepoli sono andati a cercarlo nella tomba. Ciò significa che il Cristo aveva portato il corpo di Gesù ad un punto di sviluppo spirituale tale da renderlo talmente vibrante per cui le molecole non potevano rimanere nella loro sede durante i tre anni del ministero. Per concludere diremo che una vita vissuta solo per la soddisfazione dei piaceri materiali aumenta il volume degli eteri inferiori del corpo vitale a scapito degli eteri superiori. Anche coloro che vivono secondo la morale corrente, pur evitando ogni eccesso, avranno una salute più robusta di colui che, aspirando alla vita superiore, edificherà un corpo vitale principalmente formato di etere luminoso e di etere riflettore. Tale persona avrà fatto la scelta del vero pane di vita, riferendolo al nutrimento fisico. Il suo corpo vitale, di conseguenza, diviene più delicato e acquisisce una sensibilità estrema, condizione che favorisce lo sviluppo spirituale pur costituendo un ostacolo dal punto di vista del vigore fisico. Presso la maggior parte degli umani vi è un egoismo preponderante, il bisogno di trarre dall'esistenza tutto quanto può offrire di piacevole. Per cui li vediamo soprattutto occupati ad accumulare possedimenti agognati. Quindi rimane loro pochissimo tempo per coltivare l'anima, cosa tuttavia molto necessaria per rendere la vita un vero successo. In tal modo coloro che partono per l'altro mondo portano per la maggior parte pochi beni spirituali e l'evoluzione avviene con una lentezza esasperante. Fintanto che non si è in grado di giudicare le cose dall'alto del mondo del pensiero concreto, fin tanto che non si è compreso in cosa consistono i beni durevoli che si portano con sé alla morte, è difficile migliorare il corpo vitale. Sembra che esso ritorni quasi totalmente verso il corpo fisico che è stato abbandonato, fluttui al di sopra della tomba e si disintegri poi lentamente.